bentornati a true fear forsaken souls allora vediamo cosa abbiamo perché già non mi ricordo più cosa dovevamo fare andiamo andiamo al pozzo vediamo se riusciamo a fare questa questa cosa già adesso allora il secchio lo mettiamo qui esatto e la manovella qua immagino perfetto infatti c'era questa cosa da analizzare ma non l'avevo fatta fatto ok e dobbiamo buttarlo giù buttalo ok e ha catturato qualcosa immagino adesso non voglio sapere cosa viene su ok è un altro gioiello allora questo è il pendente che nostra madre ha dato a header cosa ci faceva nel pozzo e come facevo a non ha continuato la frase una cosa cioè mi sembra di aver capito come facevo io a sapere che era qua dentro ma non è che lo sapevi ti ho fatto buttare io il il secchio dentro va bene quindi che che dobbiamo fare non mi fa neanche analizzare le cose quindi non non so non ha scritto neanche niente però abbiamo già due gioielli io proverei non ne sono sicura però proverei qua a mettere i gioielli a questa a questa signorina no no non lo so non so non so cosa fare con questi gioielli c'è un accendino e rifacciamoci un po tutte le qua cosa mancava da fare ah già qua mancava questo che però non ho non ho il braccino io qui con l'accendino no un dente lo vuoi no è la spugna la spugna la devo bagnare però non è che so poi cosa farci con la spugna bagnata esatto qua devo bagnare la spugna e questo me lo ricordo però poi è ok e che cosa ci devo fare con sta spugna aspetta ma devo ma c'è qualcos'altro qui va bene ho capito qua a vedi non avevo visto io qui e no però non posso fare nulla prova con la spugna bagnata no quindi non serve a niente questo perché poi me lo fai richiudere qui neanche qui nemmeno ok pochi di qua si sa mai che c'è qualcos'altro no direi di no però qua quando mi dice che ci sono solo cucchiai e forchette e qua no qua è sempre il forno però strano che non può fare niente qui è la la scopa l'hai buttata via ho lì tu butti via tutto va bene aspetta qua c'era questo anno e dice che una un coso di vermi un barattolo di vermi ma perché perché è un barattolo di vermi scusami che l'ha detto no ma strano non posso far niente questo no qua posso pulire qualcosa qua nemmeno qua non c'è nulla ma direi che a qui questo no questo ancora non abbiamo a meno che non ci sia tipo l'anello no con lo screwdriver no e se something else non so niente che io abbia mai visto quindi qua avevamo già aperto tutto se ricordo bene sei sicuro che non ci sia niente di interessante qui ma non voglio rompere niente ho capito cioè tanto in questa casa non è che ci siano cose ormai è tutto rotto e dovrei magari lavare qualcosa con con la spugna però non lo fa io riproverei con a porca miseria non avevo non avevo cliccato su per forza non mi puliva niente adesso comunque io no questo dai non è possibile eh mi sembrava strano perché era in 1723 eccola lì porca miseria e immaginavo immaginavo di aver saltato qualcosa però 1723 eccolo qua il disegno e con la spugna bagnata adesso ho visto ma immaginavo che ci fosse da pulire lì però che cavolo non me lo faceva fare allora 1722 e che cavolo non era così difficile questo questo serve sicuramente il il coso qui 23 e 4 ok e ecco cosa mancava dalla scatola qua c'è l'altra manina dell'orologio perfetto quindi sappiamo cosa dobbiamo fare adesso allora andiamo prima in bagno qui a mettere questa è capì adesso adesso serve adesso serve allora la luna deve stare qua adesso un attimo qua e perché uno manca poi le stelle sono 3 1 2 1 allora 3 1 nel senso che era uno sotto no era uno sopra 3 1 2 2 qua mamma mia ok così e invece il carriage deve stare proprio all'inizio quindi qua giusto non era cinque allora meno che no sembra strano è proprio sull'uno è però devono ce ne dovrebbero essere quattro aperti qua dietro dovrebbe stare più avanti perché non vai più avanti di così è sbagliato devi stare un po più avanti di così no forse ho sbagliato qualcos'altro vediamo ma la luna mi sembra giusta e anche le stelle mi sembra no perché questo è sceso ma ma perché sono scesi gli altri ma li avevo messi a posto ma vabbè lasciamo stare probabilmente li ho mossi mentre 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 facevo altro o finalmente lo schermedellion l'ho trovato perché l'ha definito schermedellio vabbè allora qua dovrebbe andare questo medaglione giusto perfetto e entriamo wow ok qua cosa c'è bello ecco perché mancavano tutti i coltelli ci sono delle chiavi che sono appese ai coltelli e devo devo capire qual è quella giusta devo posso prendere le chiavi solo se tolgo i coltelli ah ok sono quelle che mi servono per aprire il basement immagino e ho capito non puoi toglierli coltelli cosa devi fare qual è il problema vabbè non vuole evidentemente non vuole togliere i coltelli al momento qua devo fare qualcosa e ancora si chiede perché le candele sono accese come fanno ad essere accese le candele sembra che ci sia qualcosa dentro questa grossa candela forse dovrei accenderla è giustamente te e troviamo ho un altro gioiellino tutte cose che servono evidentemente non abbiamo più trovato teschietti però va bene adesso andrei nella cosa più spaventosa cioè questo disegno sul terreno posso ah ok un cavatappi un apriscatole più che altro no cavatappi sì forse si può usare anche come cavatappi mai più un apriscatole adesso lo so eh lo so a cosa serve l'apriscatole dovrei aprire quella quella scatola che non vuoi aprire allora lei mi capisce lei mi ha promesso ha promesso di aiutarmi ad avere la mia vendetta ero così sola prima adesso ho trovato lei cosa significa mi dispiace di averti lasciato ad affrontare tutto questo da sola quindi mi sa che ha fatto amicizia con la creepy girl la nostra nostra sorella allora qui possiamo mettere le cose adesso capisco allora qui ci vanno i denti giusto qua ci va il cuore qui ci va la fortuna qua no allora qui no questo va qui qui ci vanno i capelli e l'occhio e questo ah questo è l'emblema dei fiori quindi ci sarà qualcosa da da completare no qui va quindi qualcosa per l'occhio e qui vanno i capelli ok allora andiamo ad aprire la scatola quella che c'è in cucina no non qui vabbè mettiamo anche la manina qui e poi dobbiamo mettere l'ora giusta che non mi ricordo più qual è di qua ecco le sette meno un quarto quindi le sei e quarantacinque vediamo no ma si muove come vuole lui ma perché pensavo di dover mettere l'ora io vabbè ah guarda e questo va qua ok ho rastrello però a mano piccolino pensavo fosse più grosso no effettivamente qui dentro solo piccolino poteva essere va bene non so che cosa serve lo vedremo dopo adesso andiamo in cucina qua perché questo sicuramente serve qui giusto bene oh che cos'è ah una bustina bene adesso andiamo a prendere i capelli allora che non è che sia qualcosa di risolutivo però almeno andiamo a prenderli quindi bustina ah ancora qua dobbiamo andare ma va va bene e qua ci mettiamo i capelli allora già che ci siamo qua manca solo questo questi non si possono usare l'accendino ce l'ho lasciato allora mi dice qua che c'è da fare qualcosa qui cosa ho controllato ventimila volte qui cosa c'è da fare qui ho tolto tutto ho spostato venticinque volte qui e adesso non si può più fare niente dobbiamo andare fuori e ma qua ci siamo già stati qua mi dice che non c'è niente da fare che poi non è qua che mi dice che c'è da fare qualcosa e qui ah qui non me ne ero accorta cosa dice sono bagnate le foglie sono sono bagnate non voglio toccarle con le mie mani ecco cosa serve questo ma sì vabbè però voglio dire eh cioè quanta esagerazione holly e questo ah il braccino il braccino della della cosa qui aspetta 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 dov'è 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 dov'era in cucina in cucina qua 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 allora questo lo mettiamo qui e poi esatto andiamo a vedere eh allora questa mano va così vediamo eh a me così piace l'altra vediamo è la mano che era sbagliata così oh mamma mia oh occhiali eh ah per gli occhi giusto 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 dove 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 era qua e qua mettiamo gli occhiali ti è eh uh sono caduti da soli tutti i coltelli fantastico quindi abbiamo le chiavi per il basement giusto una due tre quattro cinque sei sette otto giusto o tutte sì 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 perfetto eh ragazzi già che ci siamo andiamo nel basement tanto ormai abbiamo fatto 30 facciamo 31 mamma aiuto e a tutte come al solito dai ok mamma mia bene andiamo va che bello non succede niente a ecco mi sembrava mi sembrava sì giusto perché il basement holly perché non è che la casa fosse tanto meglio eh eccola qua la creepy girl l'abbiamo evocata tutta colpa tua holly e adesso è sparita immagino ah ah ecco è accaduto veramente o era solo una visione ma chi può dirlo abbiamo ancora il lighter te accendi oh vedi ho fatto qualcosa di giusto posso andare giù posso andare giù no devo accendere per forza anche l'altra ok perfetto adesso possiamo scendere e qua e devo accendere qualche altra candela eye for details ah ok ma ma chi è ma chi è oh mamma ma è nostra sorella eh sì è morta da anni e cosa doveva notare 10 anni che è morta no beh magari 10 anni no che cosa ha scritto ha scritto qualcosa c'è la polizia le ha chiesto se ha notato qualcosa e lei ha mentito ma voglio dire la polizia dovrebbe indagare per i fatti proprio la nostra casa sull'albero è giusto che era nella foto ma non è vero no 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 ma non ho visto no io direi di chiudere l'episodio qui perché siamo arrivati adesso credo ad un'altra casa la casa dove dovrebbe esserci anche la casa sull'albero in questa questa tenuta non so se era la casa dove usavano giocare come ci diceva l'altra volta uno dei delle pagine una delle pagine del diario della di eder dovrebbe esserci qua una casa sull'albero quindi questa è la nuova location perciò tutto quello che dovevamo scoprire nell'altra casa era che nostra sorella è morta praticamente ed è per quello che non la sentiamo da dieci anni però voglio dire holly fai anche un po cagare adesso con tutto l'affetto cioè tua sorella non la senti da dieci anni e poi devi scoprire che è morta in questo modo potevi informarti un po prima ecco non è che dovevi aspettare che ti arrivasse la lettera dalla morta e dal fantasma e da chi per esso perché sicuramente ci sarà qualcosa di sovrannaturale dietro vabbè holly è un po rincoglionita l'abbiamo capito però pazienza l'accompagneremo lo stesso anche in questa prossima location e niente io vi saluto qui e vi rimando al prossimo episodio ciao